Musica Nel IV secolo a.C. le popolazioni liriche che vivevano nei Balcani costituirono un regno con capitale nella città di Scutari tra i villaggi che costruirono e la confluenza tra i fiumi Zeta e Moracia fondarono D'Oclea, l'impresa dell'attuale Podgorica Nel 168 a.C. Roma portò a termine la campagna di conquista dell'Illiria e pose fine alla sua indipendenza Con la conquista romana iniziò una campagna di latinizazione delle popolazioni autottome Dopo il crollo dell'impero romano d'Occidente l'area, che dal 395 era divisa tra Roma e Costantinopoli rientrò tutta nei possedimenti dell'impero bizantino Musica 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 Grazie a tutti.